Vogliamo una risposta sul caro Bollette. Quali iniziative, quale azioni mette in campo la regione Abruzzo per dare una possibile risposta alle imprese e ai cittadini? E' una delle poche regioni che non ha previsto nulla. Ci è stato negato qualsiasi tavolo di confronto, non solo a noi forze presenti in Consiglio regionale, ma anche alle parti sociali che chiedono a gran voce una iniziativa di questo governo regionale. Invece cosa fanno? Ci calpestano, ci annullano tutti gli emendamenti, non ci fanno discutere, non ci fanno confrontare, ma portano 200 mila Euro in più per un'ulteriore nomina alla Corte dei Conti. Un Consiglio fermo per questioni di poltrone, rimpasto di giunta, nomine alla Corte dei Conti, altre nomine, ma zero risposte per lo shock energetico e per il caro Bollette. Se continuano di questo passo noi abbiamo detto e lo faremo che impediremo qualsiasi tipo di iniziativa legislativa per quello che ci consente il regolamento perché non abbiamo una risposta su quello che è il tema vero che riguardano imprese e cittadini. Non solo in Abruzzo, ovviamente nel nostro paese, ma la regione Abruzzo è una delle poche che finora non ha fatto nulla.